ciao a tutti bentornati e benvenuti sul mio canale nel video di oggi andremo a realizzare insieme un make up con la conspiracy palette di jeffrey star cosmetics in collaborazione con shane dawson mi piace tantissimo la forma di questa palette in mezzo c'ha pure il logo e le chiusure sono super carine fatte così tutte nere questo all'interno della palette ha uno simcolò secondo me è molto interessante però ancora molto ben idea di che luca andare a creare oggi però visti il colore del mio top credo che farà un look ispirato come premissima cosa sono andata ad applicare un primer e vado ora come primo colore a prelevare no da feste questo super bello eccolo qui lo vado ad applicare cerco di tenermi nella parte soprattutto più esterna questo colore si sfuma molto bene e sto notando che mi sembra anche abbastanza stratificabile nella parte interna vado più che altro a sfumare il colore già applicato vado ora con un altro pennellino uso questa lingua di gatto più che altro perché è un po più fitto e vado ad applicare il nero eccolo qui sembra mega pigmentato vado a intensificare tutta la parte più esterna questo fa un po di fallout però il pigmento direi che c'è tutto vado ora con un pennello da sfumatura piccolino sfumare i due colori insieme e se c'è bisogno prelevo ancora un pochino di viola ma giusto poco poco per aiutarmi nella sfumatura i colori insieme si sfumano veramente veramente bene guardate che belli vado ora con la jum by pencil bianca di nyx vado a riempire tutta la parte più interna e sistemo con un pennellino questo è un pennello labbra però trovo che per fare queste cose sia perfetto ed ecco qua in pratica una cat crease che ora andrò a riempire con food videos ovvero il giallo fluo anche questo prelevato qui sembra molto bello speriamolo sia altrettanto una volta applicato vado a picchiettare perché con questi colori neon è sempre meglio applicarli picchiettandoli tra l'altro questo colore è anche all'interno dei micro glitterini che però non si vedono tantissimo una volta applicato eccomi qui un'eternità dopo ho finito di applicarlo come vedete è super messy tutto patchy però questi colori fluo sono molto difficili da creare vado di nuovo a intensificare con il nero provo ad andare a riapplicare un po' di jumbo in questi punti dove è rimasto un po' più patchy ed ecco qua riapplicando la jumbo ai pencil e ripicchiettando sopra il giallo un pochino la situazione è migliorata dal vivo in realtà si vede un pochino che c'è qualcosa di strano ha fatto tutto un sacco di fallout ho riapplicato un pochino anche il nero qua per sistemare la strumatura e sono piena di fallout volevo un attimo far vedere anche gli swatch di Trisha e Sleep Paralysis perché sono veramente molto belli secondo me questo è Trisha e questo è Sleep Paralysis è super particolare e quindi nulla raga io vado a finire l'altro occhio vado a fare la base noi ci rivediamo tra pochissimo ed eccomi di ritorno al look terminato alla fine sopra il giallo ho aggiunto un po' di questi glitterini di Urban Decay di Heavy Metal nella colorazione Distortion mentre sulle labbra ho applicato Peanut Noir di Glam Light trovo che sia un colore molto bello e a differenza di quello nude non so se vi ricordate che quello ne aveva dato un po' di problemi questo è veramente bellissimo alla fine ho completato il look occhi con French nell'angolo interno e Nod Effect l'ho applicato anche qui sotto per andare a sfumare la matita quindi nulla raga considerazioni generali a parte il giallo che però le colorazioni così fluo sono sempre molto difficili sia da utilizzare sia comunque da creare e quindi vabbè ok per il resto con gli altri colori mi sono trovata molto bene si sfumano perfettamente e anche tra di loro non c'è stato problema insomma di sfumatura eccetera un pochino di fallout ma insomma niente di reparabile basta fare prima agli occhi poi la base e nulla io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video come al solito vi ricordo di guardare giù nell'info box quindi trovate tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video ciao